Scusami Davide, anche se lo sanno tutti, però ricordiamo che questo è il prezzo che paghiamo a una scelta fatta decenni, decenni, decenni fa di dire andiamo tutti sulla ruota e non andiamo sul treno. Per questo abbiamo delle regioni che non hanno delle linee ferroviarie decenti, perché prima dell'alta velocità l'Italia era un paese di automobili e di autocarri, quindi di incidenti e quindi di inquinamento.